Fragmenti, frammenti, frammenti. Fragmenti, frammenti, 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 frammenti. Fragmenti, frammenti, frammenti, frammenti. Fragmenti, frammenti, 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 frammenti. Fragmenti, frammenti, 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 frammenti. per i tuoi uomini, io non ho la fortuna di conoscere la regina eppure lei dice di conoscere me, di saper leggere nei miei occhi che mai ha visto prima d'oggi, ah vorrei saper parlare anch'io come voi, ma sono figlio di pastori, non ho studiato, non conosco il greco, l'eloquenza non so nemmeno dove sta di casa, so come belano le pecore, cosa dice un cane quando abbaia, so che musica fa una zampogna quando suona, non ho mai ascoltato un'arma e non ho mai banchettato con la carne che qualcun altro aveva cacciato per me, sono io che caccio il mio cibo, eppure quello dei principi e dei re, e prima di uccidere una bestia la guardo negli occhi e le dico perdonami se puoi, perché ti sono amico e compagno, carne da macello come te, cibo da masticare per chi in questo mondo è nato solo per mangiare e comandare, perdonatemi signore, sono sconci, arrogante, irriverente, vero, ma ho un cuore grande, un cuore nobile se mi ha permesso dirlo, perché il Dio concede la nobiltà, non la ricchezza, ho un cuore nobile signore, e voi lo sapete, non sarò contenta fino a che non sarà morto urla ecco, ma uccidilo Priamo, uccidilo! dopo dieci anni sono ancora lì, Troia City resiste, la sfida più famosa di sempre, Troia City vs il resto del mondo conosciuta anche come Iliade, comincia lì, all'inizio del decimo anno, ai tempi supplementari Omero si è risparmiato i tempi regolamentari anche Paride si rialzò in piedi, il colpo che aveva preso la testa gli aveva procurato un tale spavento, capì che doveva svegliarsi e rimettersi in gioco, Menelao lo afferrò per l'elmo con una mano, lo trascinava per il campo mentre con l'altra cercava di colpirlo a morte, per salvarsi anche Paride danzava su un solo piede alla volta, schivava e schivava, schivava e schivava ma senza mai riuscire a ribattere, ebbe un lampo, si slacciò l'elmo dal capo, Menelao rimasto a mani vuote, persa l'equilibrio, si girò verso Paride, e Paride, e Paride, e Paride, Paride! Cos'hanno in comune un toro e Menelao, marito di Elena? La verità non si scopre, si perde, un eroe vero e un codardo falso, un eroe falso e un codardo vero si mischiano fra loro, nello specchio non si intravede più nell'uno nell'altro, frammenti, ancora frammenti.